Bene, eccoci di nuovo in studio, ricordiamo che siamo seguiti pure sulle frequenze 101 e 200 di Radio Stella Città con il delegato alla scuola all'istruzione Vittorio Sebastiani stavamo affrontando e parlando del mondo scolastico a 360 gradi dalla protesta degli studenti al Baccelli che abbiamo visto essere fondata su informazioni non quasi del tutto veritiere ma non del tutto veritiere perché sì, di dislocamento scolastico sì, ma per quanto riguarda soltanto l'amministrazione quindi per loro non riguarda assolutamente nulla, potranno continuare a studiare e a frequentare il proprio istituto poi abbiamo parlato anche della creazione dei circoli didattici, della creazione accorpamento quindi a quattro circoli didattici non sono più circoli comprensivi, istituti comprensivi perché è obbligatorio che ci sia materna, elementare e media perfetto, quindi dovremo abolire dal nostro vocabolario scuola media e istituti e direzione didattica perfetto, e poi stavamo parlando anche della scuola materna comunale e degli asili nido Asili nido che qui a Civitavecchia ospitano tantissimi bambini, non ci sono liste d'attesa anche grazie ai finanziamenti diciamo così, dell'amministrazione comunale con gli asili nido privati che permettono ai cittadini di poter usufruire di una struttura privata ma con un costo pari a quello di una struttura pubblica parlavamo proprio di scuole, chiedevo come mai i bambini a tre anni rimangono a casa molto spesso a causa delle liste d'attesa molto lunghe, il buon delegato alla scuola mi stava dicendo che non è obbligato lo Stato a dover creare delle scuole materne, ma non si potrebbe ovviare al problema perché io ricordo un bambino a tre anni Non è obbligato, dunque teniamo conto che vanno all'avilonido fino a tre anni e quindi poi spesso succede l'assurdo che magari poi quando hanno finito tre anni non trovano posto nella scuola materna Esatto, però si crea un disegno anche ai genitori che magari hanno l'esigenza di portare il bambino a scuola Allora, qui si sta aprendo uno spazio anche per i privati Perché teniamo conto che dal prossimo anno chiude l'istituto storico delle scuole di Maria De Mattias Quindi il prossimo anno non ci saranno più le sezioni di scuola materna del De Mattias Quindi secondo me, siccome il comune non può aprire scuole materne Logicamente solleciteremo le direzioni didattiche a chiedere scuole materne statali Ma in mancanza di questo, secondo me, si apre uno spazio, come è successo per gli avili nido Anche per associazioni di giovani, cooperative eccetera Per gestire avili in proprio, privati Poi vediamo se i comuni hanno più interesse magari a dare convenzioni, a fare convenzioni, a scrivere questi Perché ci sono le possibilità anche di accedere a fondi regionali eccetera A Roma stanno nascendo proprio tanti di queste cose Perché spesso ai comuni può costare di meno dare un contributo Che non assumere personale e gestire in proprio Perché la gestione richiede tutta un'organizzazione che ha dei costi notevoli Quindi noi dobbiamo garantire il servizio comunque E io spero che ci siano tanti, qualche giovane diplomata eccetera Di buona volontà che si mette, tira sulle maniche e comincia a mettersi in proprio Come hanno fatto del resto nell'ia di l'inito Beh, credo che in tempi di crisi come questo il lavoro non è E appunto il lavoro è così E d'altra parte in tempi di crisi è anche vero che le gratuità sono finite Cioè la scuola materna che non è dell'obbligo, ripeto, che non è dell'obbligo E pretendere che sia gratis è un po' troppo Perché non può essere in eterno così Ecco, proprio per riallacciarmi alla gratuità è finita Abbiamo visto pure quest'estate a settembre scaldare un attimo l'aria Con la decisione del comune di Civitavecchia Di far pagare in base al reddito ISE il servizio mensa scolastica per le scuole elementari Sempre pagato, eh? Sì, sempre pagato, però in base al reddito, da quest'anno era in base al reddito ISE E a molti l'idea non era piaciuta perché si dice fosse un servizio al bambino Atto anche alla socializzazione del bambino stesso E fosse comodo e non era giusto pagare Perché si prendeva uno stipendio di 1500 euro anziché di 900 euro Prezzi esorbitanti, però poi alla fine sembra che tutti siano convenuti Ma non pagano, pagano molto poco perché sono esenti tutti quelli che hanno reddito fino a 20.000 euro Quindi, diciamo, i costi per il comune non si sono abbattuti No, i costi del comune secondo me sono aumentati Addirittura? Secondo me sono aumentati Io, per esempio, non ero molto d'accordo su questa scelta Perché partiamo dall'idea che il tempo pieno non è obbligatorio Cioè, non è obbligatorio il tempo pieno Non è che un bambino è dovuto, deve andare al tempo pieno Il tempo pieno, in genere, tant'è vero che riguarda la scuola elementare che funziona molto bene Di via Buonarroti, non ha tempo pieno Funziona benissimo È una delle scuole più ambite dai genitori Buonarroti non ha mai avuto tempo pieno Allora, il tempo pieno era nato come una scelta didattica un po' particolare, un po' diversa, eccetera Però poi è venuto un'esigenza per le famiglie Ma per quale famiglia? In genere per le famiglie che lavorano Allora, se è un'esigenza per le famiglie che lavorano in due Qualcosa possono pagare Quindi, tra l'altro, per legge, siccome è un servizio a domanda individuale Perché non è che io te lo do per forza Tu me lo chiedi e io, se ho la possibilità, te lo do Altrimenti fa quell'altra cosa, no? Allora, è un servizio a domanda individuale E i servizi a domanda individuale Non possono essere dati gratuitamente Credo che ci sia un minimo di costo Di attribuzione all'utente Che sia il 30% della spesa O il 36%, ma è la legge che lo dice Non è che si può fare così Quindi, la mensa è un servizio a domanda individuale Quindi, il Comune non potrebbe, volendo, non potrebbe darlo gratuitamente a tutti Quindi anche a chi lo sta dando gratuitamente in questo momento sta sbagliando No, ma adesso, no Gratuitamente in questo momento Il discorso è il costo generale che si fa Capito? Non è individuale Però è così Non è un fatto che si dà gratuitamente Quindi, il fatto di aver fatto le fasce di reddito va bene Perché, logicamente, questi hanno dovuto caricare di più quegli altri Perché si giunge a pagare fino a 6 euro Però, se io ho un reddito da 10.000 euro Vuol dire che la moglie non lavora Non ho due stipendi, c'è uno solo Allora non è mica obbligatorio che il bambino faccia il tempo pieno Può fare la scuola a orario normale Come molti scelgono Capito? Quindi, secondo me, questa cosa Quindi, tutti, secondo me, devono pagare Noi, prima, la facevamo questa cosa Perché io l'avevo Che tutti pagavano quei famosi 2 euro Chi è che non pagava? Quelli che lo diceva i servizi sociali I servizi sociali individuavano le famiglie I casi particolari E quelli andavano gratis Ma ci mancherebbe altro Perché c'erano, per esempio, c'erano diversi casi di ragazze madri Che magari avevano uno stipendio Però non potevano Dove lasciavano il bimbo? Quelli dovevano andare a lavorare Se no, non potevano E allora quella andava gratuitamente Alla scuola materna I servizi sociali lo dicevano E c'era un problema Il resto pagavano tutti la stessa cifra Perché era un servizio in questo modo Quindi, secondo me, bastava aumentare un euro a tutti E probabilmente i conti stavano più Perché adesso i conti non stanno bene Il comune spende un milione e duecentomila euro circa per le mensi E ne rientrano poco più di trecentomila Quindi Questo perché anche chi dovrebbe pagare è moroso O per tutti gli esempi? No, perché è così Perché ormai è così Perché non è la morosità Viene perseguita Non è Si riesce a farlo È perché effettivamente Con le tensioni e le cose Le entrate Molti magari Che dovevano pagare sei euro Preferiscono non fare il tempo pieno Molte persone hanno rinunciato al tempo pieno E hanno fatto la scuola normale Per non pagare la cifra di sei euro completa Beh, sì Questo era uno dei problemi tecnici Di cui a lungo si è dibattuto Però volevo dire Tutto sommato Qui il comune ha dimostrato Io secondo me Ha dimostrato una certa sensibilità Nel senso di voler venire incontro Anche a chi ha redditi bassi E comunque dargli la possibilità di frequentare un tipo di scuola Che è diversa dalla scuola a orario ridotto Insomma, su questo non c'è dubbio Però se si guardano i conti Non è che tornano molto Ecco, vabbè Lasciando stare i conti del comune Sul caso Mense Un altro problema però legato alle mense scolastiche Dopo aver dibattuto lungamente Su era giusto o non era giusto Pagare a seconda della fascia Ise Era la cosiddetta qualità del servizio mensa Una qualità di cui spesso tantissimi genitori Per bocca dei propri figli anche Si sono lamentati In quanto dicevano C'è sempre mortadella C'è sempre pasta asciutta Ai bambini non piace tanto Noi abbiamo riattivato Non so se poi l'avete scritto anche voi Abbiamo fatto due incontri Cioè facciamo funzionare il comitato mensa Il comitato mensa è formato da genitori e insegnanti Quindi sono quelli che ci segnalano Viene monitorata la situazione E abbiamo fatto questo Siccome ci sono queste ripetizioni E queste cose che stanno stufando Però non è che uno le può cambiare così Allora abbiamo fatto l'ultimo incontro Con la ditta Con il dietologo E con l'asle Sono stati concordati In base alle proposte che hanno fatto gli insegnanti Quelli del comitato mensa Che poi erano i portavoci del malessere comune Sono state modificate Fatte proposte alcune modifiche Che adesso la ditta col dietologo doveva valutare Perché devono fare conto delle calorie E quindi penso che alcune cose vengono cambiate Proprio sulla base delle indicazioni che sono emerse Noi come comune stiamo controllando le quantità Perché qualche volta si sono lamentate anche sulle quantità Specialmente in alcuni cibi Spesso alla scuola media Magari sembravano quantità ridotte Rispetto al bisogno energetico O all'appetito dei ragazzi E quindi queste le controlliamo noi d'ufficio E ogni tanto facciamo qualche sopralluogo In questo senso qui Ebbene non possiamo di certo lasciare Con l'appetito i bambini Però una signora invece Per quanto riguarda il rimborso menze Per i pasti non fruiti Con cui anche col comune Si era già convenuti Di farli di tre mesi in tre mesi Una signora ha chiesto Ma come si fa ad ottenere il rimborso? E l'hanno spiegato Dicendo che bastava andare in segreteria A scuola Presso gli uffici della segreteria A scuola Dove chiedere I certificati Delle assenze Del proprio bambino E presentarlo poi Agli uffici preposti del comune A signora ha risposto La scuola non mi ha dato Il certificato delle assenze Dicendo che si fa tutto a fine anno E non ogni tre mesi No si fa ogni tre mesi Le scuole si sono un po' Allarmate Da questa richiesta di rimborso Perché è successo che Mancando anche un giorno Visto che io pago 6 euro Ma adesso mi rimborsi Mentre prima non c'era il rimborso Perché era Era un pagamento forfettario Quindi era un contributo E quindi non aveva diritto A rimborso Adesso che comincia a pagare Il pasto E' logico Se il mio figlio non ci sta Permetti che me lo ridai Non è che te lo pagano Allora che succede? Che sono molti i genitori Che magari anche per un giorno Poi vanno alla scuola A chiedere La certificazione Quindi questi si vedono Gli uffici operati Di richieste in questo senso Capito? Ecco in questo senso Non si potrebbe Convenire con le scuole Per trovare una soluzione Allora sì no Infatti la riunione Che abbiamo fatto con i preti L'ho fatta apposta Una riunione proprio stamattina Tra l'altro Gli abbiamo predisposto Un tabulato Dove le scuole Si devono dire L'assenza Poi lo mandano al comune In modo che quando viene Il genitore Chiede il rimborso Si verifica Se è assente o meno E così si evita Il passaggio a scuola Quindi niente più Passaggio a scuola Si va direttamente Agli uffici del comune Sì però Sta cosa deve andare In In porto In porto La proposta è questa Che si possa fare In questo modo Perché noi abbiamo fatto Un tabulato Basta che Ogni classe Ci metta Il giorno dell'assenza Assente Poi alla fine del mese Ce lo manda Quando il genitore Viene a richiedere Il rimborso Il tizio e il caio Il giorno sotto Era assente Sì assente Cercheremo di semplificare In questo modo E beh credo che Ne saranno felici Anche le segreterie scolastiche Per quanto riguarda La scuola È ovvio che I servizi offerti All'interno della scuola Sono anche servizi Per i meno fortunati Portatori di handicap Questo viene fatto Dall'amministrazione comunale Con l'aiuto Dei servizi sociali No servizi sociali C'entrano poco Perché adesso Che sono state fatte Le holding C'è una sotte Apposita Ippocrate Ecco anche questo È un dato importante Fra le cose Che funzionano A Cevita Vecchia Perché ce ne sono molte Che funzionano A Cevita Vecchia A me piace Quando sento sempre C'è sempre un nichilismo Che le cose Non vanno Tutti a lamentare L'altra mattina Sono andato In biblioteca Noi abbiamo Una bellissima biblioteca Era piena di ragazzi Piena Piena di ragazzi universitari Che stavano lì Tutte le mattine Stanno lì Quindi è un servizio Che la gente Non lo sa Che però c'è E funziona Le scuole Secondo me Funzionano E lo vediamo anche Spesso Questo non è merito Del comune Ma è merito anche Delle scuole Nel senso che Vediamo spesso Le nostre scuole Partecipano Con corsi Anche nazionali E riescono a piazzarsi A essere competitivi Quindi vuol dire Che le scuole Vanno bene Però c'è anche Da dire Che il comune Si è impegnato Notevolmente Su questi Perché dobbiamo pensare Che L'AEC Cioè I supporti Agli alunni Portatori di handicap Che il comune Non è tenuto a dare Perché comunque Per gli insegnanti Di sostegno Parlo di insegnanti Di sostegno Si fanno le diagnosi Ed è lo Stato Che mette L'insegnante Di sostegno In più ci sono Questi educatori Comunali Che vanno in aggiunta E sono Supporti preziosissimi Per l'educazione E l'integrazione Dei ragazzi Il comune Ce ne ha 68 Ebbè non è poco Considerando anche Che molto spesso Gli insegnanti Di sostegno Non stanno Sotto il giorno E 300 mila euro E 300 mila euro Su questo progetto Allora vuol dire Che c'è una scelta Effettivamente Per aiutare Chi ha più bisogno Queste sono le cose Che poi non appaiono Perché poi Appare il viale Appare la buca Appare le cose Queste sono Però sono le cose importanti Capito Gli avilinido Che contentano tutti E il sostegno Che si dà A Civitavecchia Io non credo Ci sia un'altra città Che dà Questo tipo Di sostegno Così A parte la qualifica Ma anche Dal punto di vista Numerico E che si impegna In questo modo Quindi Sono state scelte Sul sociale Che secondo me Andrebbero apprezzate Insomma E speriamo Adesso Siamo in campagna elettorale Indipendentemente Da chi Sarà Che rimangano Perché queste Sono cose strutturali Quindi sono scelte Che il comune ha fatto E che dovranno rimanere Questo mi sembra Anche giusto Anche perché poi Ne va di mezzo L'educazione Delle nuove generazioni Sì ci sono cose Che non sono Ne di destra Ne di sinistra Deve essere Per la città Io la ringrazio Tanto per essere Stato con noi E per arrivare In risposto Alle nostre domande Che sicuramente Sono state utili Anche a chi Ci sta ascoltando Ringrazio anche I nostri Telespettatori Ascoltatori Vi ricordo Che l'appuntamento Con Newsroom È per domani Sempre alle 19 E vi lascio La parola Al telegiornale Grazie a tutti